Un cuore grande anche a Cittadella. Dopo la raccolta spontanea di 250 mila euro a disposizione della realtà sanitaria locale, molte sono state richiamate al Comune di chi vuole contribuire anche sotto il punto di vista di aiuto economico alle famiglie in difficoltà, al di là dei buoni pasto arrivati dal Governo. Purtroppo le famiglie non sono in difficoltà solo sotto l'aspetto alimentare, ma sono in difficoltà nel pagamento degli affitti, per esempio, oppure nel pagamento delle utente. Quindi queste persone che vogliono aiutare queste famiglie ci sono rivolte a noi per gestirli tramite i servizi sociali. Quindi abbiamo deciso di aprire un conto corrente che però non sia solo un conto corrente per aiuti alimentari, ma sia un conto corrente che possa aiutare a 360 gradi la famiglia. È emerso, signor Sindaco, anche dal vostro osservatorio qualche situazione che effettivamente si ignorava prima? Sì, sì, sicuramente. Noi conoscevamo in maniera abbastanza precisa quali erano le famiglie in difficoltà prima del Covid. Solo per i buoni spesi abbiamo ricevuto circa 150 domande. E secondo me non tutte le persone che ne hanno bisogno hanno fatto domanda.